L'emozione per la devastazione del coronavirus in questo lembo di Padania ha già portato più di 1.500 persone, associazioni o aziende a sottoscrivere la raccolta fondi di Uniti per la provincia di Cremona sul conto del credito padano. Oggi la cifra raccolta è arrivata a 815.000 euro. La solidarietà ha trovato un'immediata risposta tra i promotori dell'associazione che hanno subito dato il via a una serie di acquisti indispensabili per la lotta alla pandemia. Già oggi sono stati decisi gli acquisti di 15 letti attrezzati per la terapia intensiva, 7 destinati all'ospedale di Cremona, 8 per potenziare il reparto di terapia intensiva dell'olio Po per un valore di 170.000 euro. È stato inoltre deciso di fornire 132 letti per terapia subintensiva e ordinaria che saranno resi subito disponibili per l'ospedale di Cremona e quello dell'olio Po sulla base delle esigenze, costo 200.000 euro. La diocesi e il comune di Crema si sono fatti carico di trovare ospedalità per il personale cinese in arrivo in queste ore, 35 persone tra medici, infermieri e tecnici. Uniti per la provincia di Cremona anche in questa occasione farà la sua parte pagando metà delle spese previste, 200.000 euro, il resto a carico di diocesi e comune, per il soggiorno dell'equip cinese e degli addetti al montaggio dell'ospedale da campo dell'esercito italiano. È stata anche stabilita la partecipazione, 5.000 euro, all'acquisto di un'auto furgonata per trasporto frigorifero dei tamponi dagli ospedali ai laboratori, aderendo alla richiesta della Croce Rossa di Crema. Uniti per la provincia di Cremona fornirà anche materiale DPI sufficiente per 20 giorni destinato al personale della Croce Rossa di Cremona, 15.000 euro. È stato anche previsto l'acquisto di una nuova ambulanza per la padana soccorso di Vescovato, costo 93.000 euro. Dunque, soltanto oggi sono stati spesi 583.000 euro, andando incontro alle esigenze di tutto il territorio provinciale. Da segnalare che il comune di Crema oggi ha deliberato di aderire a Uniti per la provincia di Cremona, stanziando 5.000 euro.